Lentini, 29 anni, aveva rapinato arma in pugno club privé, l'attitante è stato arrestato. Aveva commesso una rapina a un club privé di Carlentini insieme a un complice, ciuffato dai poliziotti del commissariato di Lentini, ma lui l'autore della irruzione si era dato alla macchia con il fiato dei poliziotti sul collo quando agente del commissariato di Lentini e della squadra mobile nel pomeriggio di ieri, dopo circa tre mesi di ininterrotte indagini, hanno rintracciato ed eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa unitamente a decreto declaratorio di latitanza. L'uomo, nonostante il tentativo di fugo attraverso i tetti dell'abitazione civile, è stato arrestato dagli agenti che avevano accinturato la zona e condotto presso la casa circonda di Cavadonna. L'ordinanza in carcere nei confronti di Alfio Scandurra, lentinese di 29 anni, irreperibile per sottrarsi alla misura emessa in relazione al reato di rapina aggravata dall'uso delle armi in concorso ai danni di un club privé di Carlentini commesso lo scorso 2 novembre unitamente al suo complice Damiano Marino, già tratto in arresto, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Scandurra è stato rintracciato ieri pomeriggio in un immobile nel quartiere Santa Maria Vecchia a seguito di un'attenta attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. Si era reso responsabile di numerose reati nell'ambito dello spaccio, ma alla fine la giustizia ti presenta il conto e così gli agenti della squadra mobili hanno eseguito un provvedimento di cumulo pena a carico di Gaetano Tringali Siracusano di 29 anni, condannato in via definitiva per vari reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze struvacenti alla reclusione di nove mesi e un giorno. L'uomo è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna. Nelle giornate del 24 e 25 gennaio, nell'ambito dell'operazione Trinaglia, il gente del commissariato di Augusta, insieme al personale del reparto prevenzione e crimine di Catania, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio e hanno controllato 202 veicoli e identificato 132 persone. Nell'ambito dei detti controlli, una donna di 38 anni è stata denunciata perché è trovata in possesso di 5,5 grammi di cocaina e una persona è stata segnalata alla competente autorità amministrativa. Infine, gli agenti hanno denunciato un uomo di 56 anni per inosservanza ai provvedimenti dell'autorità. A Davola gli agenti del commissariato hanno denunciato un 41enne già noto alle forze dell'ordine per il reato di furto di energie elettriche.